Per fortuna devo fare una comedia che mi consente comunque con questa situazione creare un linguaggio, far diventare una cosa che era un ostacolo, un impedimento, farlo diventare un instrumento. La pandemia ci ha fatto pensare l'altro come un nemico. La famiglia dei Donati è un po' così, l'altro è quello che mi può togliere la fortuna. Al contrario, che diventi la nostra amica questa situazione, perché ci dà la materia con cui fare lo spettacolo. Sono molto fiero di dirigere la prima opera di scena in Italia e in Europa, post-Covid. Io penso Gianni Schicchi è un'opera perfetta per questo festival, per aprire questo festival, qui nella cittadella del Carnivale, in via Reggio. Allora Gianni Schicchi è legato con questa tradizione di comedia dell'arte. E che cosa in comedia dell'arte? Mascherina! C'è Gianni Schicchi in mascherina! Questa non è solamente l'opera, è la vita! La? Grazie a tutti!